Due pericoli insidiano i credenti, la tentazione di divinizzare le cose della terra e di dollatrare le abitudini come se tutto dovesse durare per sempre. Invece l'unica bellezza eterna a cui guardare è Dio, lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Santa Marta. I popoli europei accolgano gli affamati forestieri come fossero fratelli. Nell'udienza alla Fondazione Romano Guardini il Papa ha levato un nuovo appello all'accoglienza dei migranti. Parlando del grande teologo tedesco, il Pontefice sottolinea che nel popolo riconosciamo come in uno specchio le forze dell'azione divina. Ripensare l'identità cristiana in termini propositivi, abbandonando l'atteggiamento difensivo, è quanto emerso nella presentazione del Congresso Mondiale educare oggi e domani una passione che si rinnova, organizzato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica a Roma dal 18 al 21 novembre. Non lasceremo cadere l'invito di Papa Francesco a prendere il largo con coraggio e a innovare con creatività. E quanto ha detto il Cardinale Presidente della CEI, Angelo Bagnasco, a conclusione a Firenze del V Convegno Nazionale della Chiesa Italiana. Alla messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha parlato di due pericoli che possono tentare i credenti. L'idolatria delle immanenze, che si focalizza sulle cose della Terra, e quella che ci porta a cristallizzarci nelle nostre abitudini, come se tutto dovesse durare per sempre, come se non esistesse il tramonto. I discepoli del Figlio di Dio invece sono chiamati a guardare sempre oltre, dall'immanenza a guardare la trascendenza, e dalle abitudini a guardare l'abitudine finale, che sarà la contemplazione della gloria di Dio. Noi, i credenti, non siamo gente che torna indietro, che cedono, ma gente che vanno sempre avanti. Andare sempre avanti in questa vita, guardando le bellezze e con le abitudini che abbiamo tutti noi, ma senza divinizzarli. Finiranno. Siano queste piccole bellezze che riflettono la grande bellezza, siano le nostre abitudini per sopravvivere nel canto eterno, nella contemplazione della gloria di Dio. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza i membri della Fondazione Romano Guardini presenti a Roma per partecipare ad un convegno organizzato dall'Università Gregoriana in occasione del 130esimo anniversario della nascita del Guardini. Nel suo discorso il Pontefice ha ripreso un passo dei fratelli Karamazov di Dostoievski su cui si sofferma il teologo e il filosofo in un suo libro. È il passaggio in cui una contadina macilenta va dallo stare con un sacerdote russo per confessarsi dopo aver ucciso il marito che la maltrattava. La donna è chiusa in se stessa, ma, dice Papa Francesco, il sacerdote mostra una via d'uscita. Nella confessione la donna viene trasformata e riceve di nuovo speranza. Il Papa si è così soffermato sulla categoria di popolo così presente nel pensiero di Guardini che lo vede come uno specchio in cui riconoscere il campo di forze dell'azione divina. Guardini intende il concetto di popolo distinguendolo nettamente da un razionalismo illuministico che considera reale soltanto ciò che può essere colto dalla ragione. Sono le parole di Francesco e che tende a isolare l'uomo strappandolo dalle relazioni vitali naturali. Il popolo, invece, significa il compendio di ciò che nell'uomo è genuino, profondo, sostanziale. Di qui il Papa ha colto l'occasione per un nuovo, vibrante appello all'Europa affinché accolga i migranti con generosità. Così potremmo forse riconoscere che Dio, nella sua sapienza, ha inviato a noi, nell'Europa ricca, l'affamato perché gli diamo da mangiare, l'assetato perché gli diamo da bere, il forestiero perché lo accogliamo e l'ignudo perché lo vestiamo. La storia poi lo dimostrerà. Se siamo un popolo, certamente lo accoglieremo come un nostro fratello. Se siamo solamente un gruppo di individui, più o meno organizzati, saremo tentati di salvare innanzitutto la nostra pelle, ma non avremo continuità. Fra le diverse udienze di questa mattina il Papa ha ricevuto Sua Eccellenza il signor Claude Joël Jourdan, nuovo ambasciatore del Principato di Monaco, per la presentazione delle lettere credenziali con cui viene accreditato presso la Santa Sede. Nato nel 1949 a Monaco, ha sposato a due figli. Laureato in diritto, ha conseguito un diploma di studi superiori di scienze politiche all'Università di Nizza. Inoltre ha frequentato l'Istituto di Studi Politici, nonché l'Ecole Nationale d'Amministrazione a Parigi. Il Papa ha poi ricevuto in udienza il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, il signor Luis Leonardo Almagro. Educare oggi e domani una passione che si rinnova è il tema del Congresso Mondiale organizzato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e presentato nella Sala Stampa della Santa Sede oggi. Il Congresso, a Roma dal 18 al 21 novembre, si situa nell'ambito di due anniversari, il cinquantesimo di Gravissimum Educazionis, dichiarazione del Concilio Vaticano II sull'educazione cristiana, e il venticinquesimo di Ex Corde Ecclesie, Costituzione Apostolica sulle Università Cattoliche di Giovanni Paolo II. Nel suo intervento, il Cardinal Versaldi ha sottolineato l'importanza storica del documento conciliare. Il punto iniziale è ovviamente la dichiarazione sull'educazione cristiana gravissimum educazionis. Infatti fu la prima volta che in un concilio si trattava questo tema dell'educazione nel suo accezione scolastico-universitaria, quindi da una angolatura moderna e specifica. È un testo breve, ma che ha avuto molte conseguenze circa l'importanza e il senso dell'educazione cattolica non solo, ma anche ha favorito dal punto di vista scientifico un progresso nella stessa concezione dell'educazione e quindi da un punto di vista pedagogico. Il piccolo seme gettato nel solco della Chiesa con la gravissimum educazionis si è sviluppato in tre direzioni unite dallo stesso fine e cioè scuole, studi ecclesiastici e università cattoliche. La dichiarazione conciliare ha osservato il Cardinal Versaldi apposto il concetto di educazione che non può essere estrapolato dall'ambito dei diritti della persona, ciò emerge già dal proemio. Il numero uno dice tutti gli uomini di qualunque razza, condizione, d'età in forza della loro dignità di persona hanno il diritto inalienabile ad una educazione che corrisponda al proprio fine, convenga la propria indole, alla differenza di sesso, la cultura, le tradizioni del loro paese ed insieme aperte ad una fraterna convivenza con gli altri popoli al fine di garantire la vera unità e la vera pace della terra. Quindi la Chiesa è in dialogo col mondo dal punto di vista di questa formazione, di questa educazione. L'idea del congresso mondiale è nata nel 2011, ha raccontato il segretario del di Castero, Monsignor Zani. Il cammino di preparazione ha creato un grande coinvolgimento. Tra le tappe, dopo il seminario di studio con 50 esperti da tutto il mondo, si è arrivati al testo di lavoro tradotto in varie lingue per aiutare le diverse realtà a riflettere sui temi fondamentali. Sorprendente la reazione ai 149 questionari provenienti da 62 paesi, migliaia alle risposte giunte al di Castero. Come ha spiegato il professor Fiorin della LUMSA, responsabile dell'equip che ha analizzato il materiale pervenuto, le risposte offrono uno spaccato della varietà di esperienze, punti di vista, percezioni, pratiche in atto nelle istituzioni educative cattoliche. Sulla entità delle scuole cattoliche, un dato eloquente è quello dato dal segretario Monsignor Zani. Ecco, per dire due dati sulle scuole cattoliche, siamo riusciti a fare il confronto tra quante erano le scuole cattoliche nel 1971, dunque cinque anni dopo il Concilio, e quante erano nel 2013. C'è stato un aumento del 95%, cioè quasi raddoppiate. Nel 1971 erano 120.407 e nel 2013 le scuole cattoliche dalle materne alle medie superiori erano due anni fa 215.784. Cornelio Fabro, grande filosofo, parlando di ateismo, diceva ma oggi l'ateismo non è più quello pratico, che quello, scusate, teorico, che lottava per dimostrare, se così si può dire, che Dio non esiste e si affannava in tutti i modi a sostenere, a proclamare ai 420 la morte di Dio, la sua non esistenza. Non è questo, non è più questo. È molto più sottile e lo esprimeva con queste esatte parole. se Dio esiste non c'entra. Questa è la cosa peggiore. Ma attenzione, perché tutti possiamo essere esposti a questa forma di ateismo di fatto, pratico. Tutti noi possiamo giustamente credere in Dio, ma dobbiamo chiederci c'entra però Dio nella mia vita? Parliamo di umanesimo cristiano e il Papa ci ha ricordato fortemente che senza Cristo, senza lo sguardo, senza guardare a Gesù non c'è umanesimo e allora l'annuncio di Cristo è il fondamento di quell'umanesimo di cui tutti abbiamo bisogno e di cui siamo noi debitori al mondo. È significativo pensare che il percorso del convegno continua nell'imminente anno santo di quella misericordia che altro non è che il nome dell'amore che Dio ha per noi amore la misericordia l'amore amore nella forma della fedeltà assoluta la fedeltà di Dio che genera in noi stabilità sicurezza e fiducia in qualunque situazione ci troviamo è questo il primo volto della misericordia l'amore assolutamente fedele di Dio per l'umanità la misericordia è la via attraverso la quale l'amore del Signore si rivela a noi e raggiunge il mondo ferito tutti noi avvolgendolo con tenerezza che consola e rigenerando quale grembo materno a nuova vita scopriamo assieme i musei più belli del mondo scoprire stando comodamente a casa propria la bellezza la storia la cultura custodita nei musei vaticani il complesso che con i suoi 6 milioni di visitatori e 5 chilometri di percorso costituisce il patrimonio artistico più apprezzato in tutto il mondo occasione imperdibile per conoscere tanta bellezza è la collana DVD alla scoperta dei musei vaticani prodotta dal centro televisivo vaticano e da officina della comunicazione realizzata in collaborazione con Rai Com e il gruppo editoriale dell'Espresso è un'occasione imperdibile attraverso le splendide immagini la serie in sei puntate aiuterà a comprendere l'ambito culturale sociale in cui si sono sviluppate le diverse collezioni Monsignor Viganò una bella sfida questa di comunicare in televisione il patrimonio straordinario che sono i musei vaticani sì assolutamente sì ha un aspetto educativo perché sono sei documentari divisi per i vari musei che compongono appunto i musei vaticani e poi perché in qualche modo si suggerisce un filo da rianna da attraversare per non perdersi in questo patrimonio museale artistico veramente straordinario un labirinto uno specchio un'enciclopedia di immagini in movimento sono le metafore usate dal direttore dei musei vaticani Antonio Paolucci per raccontare la ricchezza del patrimonio in essi contenuto una bellezza che riempie di stupore sempre nuovo chiunque vi si accosti con attenzione con curiosità guardandosi attorno più che usare la fotocamera un viaggio che può essere fatto oggi stando a casa propria e che apre scenari storici inattesi guida d'eccezione Alberto Angela che con la sua capacità divulgativa accompagna lo spettatore in un percorso inedito all'interno dei musei del Papa alla scoperta dei diversi settori museali e dei loro capolavori la storia dei musei infatti attraverso il succedersi dei diversi papati e il transitare di molti grandi artisti si è intrecciata con la storia universale dell'umanità il labirinto dei musei vaticani come è stata questa esperienza? diciamo che è stato un po' come esplorare un continente abbiamo lavorato tanto 40 giorni ma diciamo che è stato un grande piacere per me perché è stato come i musei vaticani li ho già filmati in passato ma vederli così e soffermarsi di fronte a un capolavoro te e il capolavoro e mentre la pausa di riprese per mettere le luci meglio eccetera tu guardi quest'opera e di colpo hai questa specie di contatto non tanto con l'opera ma con il modo di pensare che l'ha prodotta secoli e secoli fa e questo abbiamo cercato di farlo arrivare fino a casa in pratica perché questi dvd vi consentono di stare nel vostro tinello diciamo su un sofà oppure nella vostra a casa in camera da letto non so aprire questo il televisore vedere questo dvd e di colpo voi siete dentro i musei o meglio sono i musei che vengono da voi e senza il caos delle persone spiegano che cosa rappresentano ogni opera viene rappresentata spiegata ma anche i momenti gli artisti diciamo che è come una visita personalizzata dentro i musei vaticani che sono in assoluto uno degli scrigni delle casse forti del nostro modo di pensare e di concepire la bellezza nel senso del bello l'emozione che ti può dare l'arte domenica 15 novembre il santo padre Francesco visiterà la chiesa di Cristo della comunità evangelica luterana in via Sicilia a Roma sarà il terzo papa a incontrare la comunità evangelica il primo ad entrare in una chiesa luterana dopo la riforma fu Giovanni Paolo II nel 1983 27 anni più tardi andò Papa Benedetto XVI a cui si riferiscono le immagini era il 14 marzo 2010 è stato l'incontro tra l'attuale pontefice e il patriarco Bartolomeo a Gerusalemme a spingere il pastore della comunità evangelica luterana di Roma Cruz a invitare domenica prossima Papa Francesco l'evento sarà seguito in diretta dalla nostra emittente a partire dalle ore 16 prima pagina dell'osservatore romano con la data di domani sabato 14 novembre 2015 Papa Francesco alla romano Guardini Stiftung l'Europa ricca accolga i fratelli affamati critiche di Juncker ai paesi membri sui profughi unione troppo lenta oltre 40 morti per un duplice attentato a Beirut contro le sedi di Hezbollah Libano nel mirino dell'Is le credenziali dell'ambasciatore del Principato di Monaco di Monaco ase di M